Aspettiamo qualche minuto per la connessione, vi saluto a tutti intanto, tutti coloro che si connettono e anche quelli che guarderanno la registrazione o dalla pagina pubblica o da YouTube. Vi prendo qualche minuto perché c'è una sorella che mi ha mandato qualche minuto fa un messaggio, ma io di solito non faccio consulenze via Messenger perché non ne ho tempo, anzi colgo l'occasione anche per dire che l'avevo già spiegato più volte su Facebook, ma lavorando nella scuola, avendo il pomeriggio compiti da correggere, consigli di classe, incontri per materia, riunioni con i genitori, quant'altro, in più nei pochi minuti facendo viaggi, spesso anche di notte, è chiaro che io non ho tempo anche di fare consulenze, però colgo l'occasione per rispondere a questa sorella che mi ha fatto, ciao a tutti, una domanda che in realtà a me è già stata posta più volte in passato e che riguarda la predestinazione. Mi ha chiesto, Walter, cosa ne pensi tu della predestinazione? E allora ho detto, ok, le ho risposto un attimo, ma poi chiaramente il tempo è poco, ho detto faccio un video perché molti mi hanno chiesto su questo argomento che cosa ne pensi della predestinazione? Perché la predestinazione è una dottrina che circola nella Chiesa, non da adesso. Il più grande, come dire, apostolo, tra virgolette, della predestinazione è stato Giovanni Calvino, un predicatore riformato, è predicato nella zona di Ginevra, intorno alla metà del Cinquecento, il quale ha fatto della predestinazione un cardine, ma il concetto di predestinazione è diffuso ancora oggi molto nelle Chiese riformate, cioè nelle Chiese evangeliche, nelle Chiese protestanti, soprattutto in alcuni ambiti, in alcune denominazioni. E lei mi ha chiesto che cosa ne pensi, io vorrei condividere con voi dalla scrittura quello che io penso sulla predestinazione. Credo che sia un problema di interpretazione di quello che è scritto nel Nuovo Testamento. Paolo parla spesso, usa spesso questo termine, predestinandoci, avendoci predestinati, ci ha predestinati. Ne parla nella lettera ai Romani, ne parla nella lettera agli Efesini al capitolo 1, ne parla in diversi punti. Che cosa vuol dire allora? La Bibbia ne parla. Secondo questa interpretazione della predestinazione alcuni sarebbero stati predestinati ad essere salvati, altri invece sarebbero stati predestinati a non conoscere la verità e quindi a perdersi. Beh, senza entrare ancora un attimo nella scrittura, già un'idea del genere mostra un Dio, non voglio dire solo feroce ma ingiusto, perché ha creato alcuni per salvarli, ha creato altri per perderli. Questo non solo non si sposa con il concetto di libertà, che chiaramente nella Bibbia è trasparente e palese, ma non è nemmeno logico, perché un Dio che crea degli uomini e delle donne, alcuni per salvarli, alcuni per perderli, è chiaro che, insomma, è piuttosto inquietante. Però questa è chiaramente soltanto un'interpretazione razionale. Andiamo a capire dalla scrittura che cosa vuol dire Paolo quando parla, perché lui soprattutto ne parla, della predestinazione. Quando lui dice che noi siamo stati predestinati a conoscere la verità, siamo stati predestinati a essere adottati per mezzo di Gesù Cristo, quando scrive che siamo stati predestinati a diventare eredi di Dio secondo il suo volere, non vuol dire che ci sono alcuni che sono predestinati a averlo e altri no, perché Paolo non dice mai questo. Lui parla in generale, dice che ognuno di noi è predestinato ad essere adottato per mezzo di Gesù Cristo. Che cosa vuol dire? Quando è nato mio figlio, nel desiderio del mio cuore. Io l'ho predestinato ad essere mio erede. L'ho predestinato a volere per lui una vita prospera. L'ho predestinato nel mio cuore a volere per lui una buona professione, un buon titolo di studio, successo nella vita. Così il progetto di Dio è quello che l'umanità che è stata preconosciuta da lui sia predestinata nella sua volontà, nella sua volontà, nel suo desiderio a diventare eredi di ogni suo tesoro per mezzo di Gesù Cristo. Infatti Paolo dice noi siamo stati predestinati, non alcuni. E a Timoteo scrive Paolo che la volontà di Dio è che tutti gli uomini siano salvati e giungano alla conoscenza della verità. Ma tutti ci giungono? No. Ma questo non perché alcuni sono predestinati ad ottenerlo e altri no, ma semplicemente perché tra il desiderio del cuore di Dio e la realizzazione c'è la nostra libertà. Quindi noi siamo stati predestinati. Però se noi non vogliamo andare in quella direzione Dio non ci obbliga. Possiamo scegliere di andare contro quello che era il nostro destino. Ecco, predestinare vuol dire progettare un destino. Non vuol dire obbligarti ad andare verso quel destino. Vuol dire progettare un destino di bene. Ecco perché Geremia dice nel suo libro che Dio ha per noi pensieri di bene e non di male per darci un avvenire, una speranza. Questo è il desiderio del cuore di Dio. Ma si realizza non sempre perché di mezzo c'è la nostra libertà. Ora però attenti. In Atti 13 verso 48 mi pare, dopo che Paolo predica e è scritto tutti coloro che erano ordinati a salvezza credettero, questa traduzione fa capire che quelli che erano destinati ad essere salvati credettero e quelli che non erano destinati non credettero e rimasero fuori. E questo non si conigua con il concetto che Dio ha tanto amato il mondo affinché chiunque crede in Lui non perisca ma abbia vita eterna. Ma se noi andiamo a studiare il termine originale di quel verbo ordinati, state attenti, il verbo lì è tasso che non è l'animaletto che viaggia di notte nei fossi in campagna. Il verbo tasso vuol dire ordinare ma vuol dire anche disporsi. Cioè tutti coloro che erano disposti verso la salvezza credettero. C'è una disposizione del cuore che nessuno conosce se non Dio, che è quella che fa sì che il progetto con cui Dio ci ha predestinati dall'eternità ad essere conformi all'immagine di suo figlio, ad ereditare il suo regno, essere adottati per mezzo di Gesù Cristo, avere vita eterna in Lui, si compia. C'è di mezzo la nostra libertà. Paolo predicò e tutti coloro che tasso erano predisposti dentro di loro, erano orientati verso la salvezza, credettero. Quindi la predestinazione esiste sì, ma non nel senso che alcuni sono predestinati a salvarsi e altri no. Questa è un'interpretazione fuori dalla scrittura. Siamo tutti predestinati nel senso che Dio ci ha destinati a quello e chiunque lo desidera non ha nessun ostacolo per averlo perché Gesù è stato offerto per tutti coloro che credono. E la volontà di Dio è quella che tutti gli uomini siano salvati. Ma la volontà di Dio è che tutti gli uomini sono guariti. Ma succede? No, per vari motivi. La volontà è che tutti gli uomini prosperino. Ma questo accade? No. Ma non perché alcuni non sono stati predestinati, ma per motivi che riguardano le nostre scelte, certi condizionamenti che abbiamo, la nostra anche fallibilità. Quindi credo nella predestinazione sì, nel senso biblico in cui Dio ci ha tutti predestinati, ci ha creati indirizzati verso la vita eterna e ha dato già suo figlio per questo. Coloro che, tasso, sono orientati dentro di loro, coloro che sono predisposti, ecco il verbo tasso, non ordinati a salvezza, cioè che Dio li ha ordinati a salvezza, tutti coloro che dentro di loro sono predisposti a volerlo, credono. Ok? Credo di, spero almeno, di averlo spiegato in maniera abbastanza chiara. Buona festa della mamma a tutte le mamme. Sì, lo so, qualcuno dirà, ah, ma la festa della mamma è una festa pagana. Buona festa della mamma a tutti, perché se non ci fossero le mamme, manco questi soloni della teologia e della religione ci sarebbero. Quindi, viva le mamme, che Dio vi benedica, buona domenica e salutate le vostre comunità. Ciao, a presto. Ciao.